Chiesto il rinvio a giudizio per 13 dei 18 indagati per la tragedia all'archivio di Stato di Arezzo che il 20 settembre 2018 costò la vita a due dipendenti, Piero Bruni e Filippo Bagni, di 59 e 55 anni, morti per il malfunzionamento dell'impianto antincendio. I due impiegati infatti furono asfissiati dal gas argon micidiale ed invisibile che divora l'ossigeno per spegnere il fuoco. A chiedere il processo adesso il PM Laura Taddei. L'udienza preliminare è già stata fissata per il 19 gennaio 2021. Il reato contestato è quello di duplice omicidio colposo. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, infatti un vetrino non originale ed una valvola montata al contrario nelle bombole di gas argon provocarono il dramma dopo che era scattato l'impianto d'allarme. Tra gli indagati ci sono il direttore dell'archivio e il suo predecessore, i progettisti e realizzatori dell'impianto, la società che si era occupata di sicurezza e prevenzione, gli addetti alla manutenzione e che operava in subalpalto, i professionisti che si occuparono della conformità ed infine il vice comandante dell'epoca dei vigili del fuoco, Antonio Zumbo. Adesso, a più di due anni dalla tragica morte dei due lavoratori, arriva la richiesta di rinvio a giudizio. Sarà poi il GUP Pier Giorgio Ponticelli a decidere se i 13 indagati su cui si concentrano le accuse dovranno andare o no a processo.